Oggi voglio raccontarvi una storia breve di un'azienda, Cheesecake Factory, che nel 1972 parte come una normale piccola azienda che produce appunto delle torte, delle cheesecake, e oggi è un'azienda da oltre 3 bilioni, cioè 3 miliardi di dollari. Come hanno fatto? Beh, in questi 50 e più anni hanno sostanzialmente sviluppato un concetto, la unicità, unique concept. Questa è la visione della strategia. Voi direte, vabbè ma io sono una piccola impresa che fa un milione di euro di fatturato. Ok, e allora? Bisogna prendere esempio dai migliori, non dai peggiori. Quindi se i migliori hanno fatto dei percorsi, io dico studiamo che cosa hanno fatto. Loro hanno sviluppato un concetto unico, il casual dining, quindi il concetto di ho in mente di mangiare qualcosa di buono, lo diremmo noi in italiano, no? E loro investono tanto su che cosa? Loro investono circa 2 mila dollari per ogni impiegato, e ne hanno tanti. Cioè applicano una delle regole di strategia, per esempio la Balance Scorecard, che è un modello di strategia, dice che ci sono quattro gambe su cui poggiano le strategie delle aziende. Fino a qualche decennio fa si pensava soltanto alla finanza aziendale, una materia che ho insegnato per tantissimi anni. Ma oggi si pensa che la finanza, cioè il lato di analisi dei rating, il lato di analisi degli equilibri economici, patrimoniali e finanziari, sia una delle quattro gambe su cui poggiare un'azienda. E loro per esempio hanno poggiato molto sulla gamba, che è la gamba della crescita del personale. E che cosa hanno fatto? Loro hanno sviluppato pochi ingredienti di strategia nella torta. E cioè, primo, l'improving test, quindi hanno fatto ricerca sulle materie prime, sulla qualità. Il secondo è sull'home-made cooking, quindi sul concetto di sviluppare delle torte che avessero appunto il sapore di casa. La home delivery, cioè hanno anticipato problemi che poi tutti abbiamo vissuto, no? Col covid, col cambiamento delle tecnologie. E quindi appunto hanno un po' fatto quello che circa vent'anni prima aveva fatto McDonald's, rivoluzionando anche il mercato della ristorazione. Skinner menu, cioè hanno ridotto i menu, hanno pensato di fare dei menu più asciutti, più piccoli. E quindi sono andati in controtendenza rispetto ai concorrenti. E infine supermarket product line, quindi hanno lavorato per le catene dei supermercati. Ecco, allora, queste sono decisioni strategiche, queste sono gli esempi. Io in questi giorni vedo piccoli imprenditori, magari proprietari di un supermercato, due supermercati, un ristorante, un'azienda vinicola, cose di questa natura. Ebbene, io penso che i modelli di ragionamento per fare crescere le aziende siano queste storie di successo, capire come hanno fatto loro e che cosa vuol dire allora shaping the future. Vuol dire sapere parlare ai clienti, sapere parlare ai fornitori, sapere parlare agli impiegati, sapere parlare ai portatori di capitali esterni. Ci vediamo alla prossima. Grazie.